Il treno regionale, 19-2-7-3, di Trenitalia, proveniente da Parma, è diretto alla Spezia Centrale, delle ore 0 e 40, e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 18-3-9-1, di Trenitalia, proveniente dalla Spezia Centrale, è diretto a Firenze-Santa Maria Novella, delle ore 4 e 48, e in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Sarzana, Carrara-Avenza, Massa Centro, Forte dei Marmi-Serravezza, Pietrasangha, Viareggio, Torre del Lago-Puccini, Pisa-San Rossore, Pisa Centrale, Nabacchio, San Frediano a Settimo, Cascina, Ponte d'Era-Casciana-Terme, San Romano-Montopoli-Santa Croce, San Mignato Fucecchio, Empoli, Montelupo-Capraia, Signa, Le Piagge, Firenze-Rifredi. Il treno regionale, 19-3-3-7, di Trenitalia, proveniente dalla Spezia Centrale, è diretto a Pisa Centrale, delle ore 5 e 16, e in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Cade-Boschetti, Bezzano-Libure, Luni. Il treno regionale, 19-3-3-9, di Trenitalia, proveniente dalla Spezia Centrale, è diretto a Livorno Centrale, delle ore 6 e 05, e in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Cade-Boschetti, Bezzano-Libure, Arcola, Luni. Il treno regionale, 19-2-5-6, di Trenitalia, proveniente dalla Spezia Centrale, è diretto a Parma, delle ore 6 e 19, e in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Bezzano-Libure, Santo Stefano di Magra, Aula Lunigiana, Villa Franca, Bagnone, Pontremoli, Borgo Valditaro, Berceto, Sollignano, Fornovo, Collecchio. Il treno regionale, 34-0-9-0, di Trenitalia, proveniente dalla Spezia Centrale, è diretto a Pontremoli, delle ore 6 e 19, e in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Bezzano-Libure, Santo Stefano di Magra, Aula Lunigiana, Villa Franca, Bagnone. Il treno regionale, 19-2-9-1, di Trenitalia, proveniente da Pontremoli, è diretto alla Spezia Centrale, delle ore 6 e 26, e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 19-3-4-1, di Trenitalia, proveniente dalla Spezia Centrale, è diretto a Pisa Centrale, delle ore 6 e 34, e in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Cade Boschetti, Bezzano-Libure, Arcola. Il treno regionale, 19-3-8-6, di Trenitalia, proveniente da Livorno Centrale, è diretto alla Spezia Centrale, delle ore 6 e 40, e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 19-2-5-5, di Trenitalia, proveniente da Parma, è diretto alla Spezia Centrale, delle ore 7 e 12, e in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 19-3-3-0, di Trenitalia, proveniente da Pisa Centrale, è diretto alla Spezia Centrale, delle ore 7 e 25, e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 20-3-2-1, di Trenitalia, proveniente da Savona, è diretto a Pisa Centrale, delle ore 9 e 15, e in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Cade Boschetti, Bezzano Libure, Arcola, Luni. Il treno regionale, 22-9-1-4, di Trenitalia, delle ore 10 e 46. Per Levanto, è in partenza dal binario 3. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 22-9-0-9, di Trenitalia, delle ore 10 e 49, proveniente da Levanto, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 19-2-5-9, di Trenitalia, proveniente da Parma, è diretto alla Spezia Centrale, delle ore 14 e 28, e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno Etrusky Line, 94-4-6-7, di Trenitalia, proveniente dalla Spezia Centrale, è diretto a Grosseto, delle ore 14 e 19, e in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Sarzana, Luni, Carrara Avenza, Massa Centro, Forte dei Marmi Serravezza, Pietrasanta, Via Reggio, Torre del Lago Puccini, Pisa San Rossore, Pisa Centrale, Livorno Centrale, Quercianella, Castiglioncello, Rosignano, Vada, Ceicina, Bolgheri, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Follonica. Il treno regionale, 18-3-6-1, di Trenitalia, proveniente da Firenze Santa Maria Novella, è diretto alla Spezia Centrale, delle ore 12 e 14, e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 19-3-7-0, di Trenitalia, proveniente da Pisa Centrale, è diretto alla Spezia Centrale, delle ore 18 e 46, e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 19-3-6-8, di Trenitalia, proveniente da Pisa Centrale, è diretto alla Spezia Centrale, delle ore 18 e 46, e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Grazie a tutti.